Luigi Fedele, quanto basta? Allora, quanto basta è quella quantità non misurabile che però fa la differenza, no? Però a Guido, al tuo personaggio, lo mette un po' in crisi. Sì, diciamo che quanto basta è in un certo senso un titolo che si rifà anche alla misura e alla sottigliezza dei rapporti nel film. E sicuramente per ragazzi con delle neurodiversità, come può essere il personaggio di Guido, spesso lavorare anche su un equilibrio, su una misura più sottile, può essere anche più complicato. Probabilmente perché il mondo interiore che ha dentro di lui è molto più grande in realtà di quello che manifesta. Per cui dietro a una parola, dietro a un silenzio, dietro a uno sguardo c'è molto di più, insomma, c'è un universo molto più grande. Forse diciamo in un certo senso questo quanto basta, potrei dire che a Guido basta Arturo e ad Arturo basta Guido per completarsi e per diventare insieme anche più grandi della loro somma, no? Ho cominciato a fare una ricerca del personaggio partendo dall'esteriorità e quindi ho fatto una ricerca più di tipo documentaristico, quindi facendo letture, guardando documentari, film che trattassero appunto il tema dell'autismo. In una seconda fase però l'esperienza più profonda anche a livello umano è stato proprio conoscere e incontrare questi ragazzi dal vivo. e quindi diciamo ho iniziato a preparare il personaggio non più dalla sua esteriorità ma dall'interiorità. E lì insomma ho cercato, cioè il mio obiettivo era quello di trovare il mio di Asperger. Ah! Grazie.